Fere, ma che hai combinato? Dove siamo finiti questa volta? Spiegamelo immediatamente! Non lo so, Steph! Non lo so neanch'io stavolta! Come non lo sai, Fere? Pensavo fosse per tua! No, siamo entrati su Minecraft e siamo semplicemente su un blocco! Che facciamo adesso? Non ho idea, Fere! Credo che dovremmo in qualche modo sopravvivere qui sopra! In due si sta scomodi per il più, Fere, buttati giù, dai! Non c'è spazio, su, fai da brava! È stretto, è stretto qui, vattene! Ehi ragazzi, come va? Io sono Fieri Niki! E sono Steph, e che se oggi chiamo a Minecraft! E oggi siamo qui con un nuovissimo episodio di Minecraft in cui dovremmo sopravvivere in un solo blocco, Steph! Quindi siamo in troppi e io direi che tu te ne devi andare! Ciao, Steph! Fere, ma ti sembra? Ma, ma Fere! Aspetta, Steph! Sì, dimmi! Chi è che sta parlando? Gongs, aspetta! State calmi! Vi ho portato io qui, ho una sfida per voi! Ok, Fere, ha una sfida, mi piace una sfida a me! Come una sfida? Dovrete sopravvivere in un mondo di Minecraft speciale, un mondo con un solo blocco! E guarda, di quello ce ne siamo accorti! Non ce ne eravamo accorti, infatti, no? Siamo un po' scomodi da un po' di tempo, quindi di quello ce ne siamo accorti senza ombra di dubbio! Per darvi una mano vi darò diversi oggetti! Il vostro obiettivo sarà quello di completare sei obiettivi! Ok, perfetto! Va bene, va bene, sei obiettivi, mi sembra giusto! Quindi almeno la sopravvivenza inizia a essere più fattibile, perché se restare qui senza niente... Aspetta, dipende da che oggetti ci dà, se ci dà dei cactus non ce ne facciamo mal dovere! Dai, non penso che sia così cattivo, penso che sia una sfida seria! Non lo conosciamo, gli obiettivi sono! Ah, perché ce li elenca pure, capito? Ah, perfetto, è bravo, è bravo! Ci vuole dire tutto! Mi piace, Fere, vuoi andare di sotto nel mentre, Fere? No, no, ti è piaciuto il volo che hai fatto prima? Far crescere un albero! Ah, ok! Quindi sicuramente ci darà almeno un sapling! Lo spero, perché altrimenti non so come fare! Creare un cobblestone generator, va bene! E qui Stef è molto esperto, eh! Eh sì, è molto esperto! Tutti la sanno, non è skygrande! Che ogni volta li sbaglia, Stef, ogni volta! Anche questa volta! Creare due ceste, perfetto! Creare due ceste, è abbastanza facile, con l'albero che faremo... Sì, non deve essere troppo complicato! Esatto, in realtà costa un po' di legna, però... Beh, però dai, due, le fette di sono tante, però! Raccogliere uno stack di cobblestone, quindi 64, tramite cobblestone generator! Eh, però bisogna stare... Non ci pensi tu, nella skygrande lo faccivi tu, quindi è tutto tuo! Poi cosa abbiamo? Creare una farm... Ok! Che è un po' più complicato, perché vuol dire che abbiamo bisogno di terra, dobbiamo creare una mini piantagione, dobbiamo fare... Eh, lo so, lo so! Non è banale, quello non è per nulla banale! Ho finito, Stef! L'ultimo obiettivo è costruire una piccola casetta! Mi aveva detto sei obiettivi, Fere, non cinque! Io pensavo fossero molti di meno, ma iniziano a essere tanti, perché poi sono tutti impegnativi, quindi, eh, sarà tosta! Fere, ma... C'è qualcosa che sta fluttuando! Aspetta, aspetta! Ma ci vogliono dare... Oh, grazie! Ok, prendili, prendili, sì! Prendiamo tutto, ok? Poi... Davvero? Ma mi scusi? Mi scusi, i nostri blocchi! Ma come? Ma dai! Ok, farei meno male che siamo riusciti a farci dare gli oggetti! Non è molto bravo, eh? Sarebbe stato terribile! Misterioso, sì, però poi non è stato molto bravo a darci gli oggetti! Eh, vabbè, dai! C'è da dire che siamo solo in un blocchetto, è anche normale che possa cascare tutto di sotto! Sì, 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 la dovevo pensare meglio! In ogni caso ci ha dato dello zucchero, poi un secchiello di lava, due secchielli d'acqua, un blocco di terra con già l'erbetta cresciuta, che è importantissimo per i semini, teoricamente, e 35 di terra, invece, senza l'erbetta, quindi un po' più brutti, ma ovviamente completamente fondamentali per fare il cobblestone generator e dopodiché tutto il resto! Ah, scusateli! Eh, vabbè, non ti preoccupare, può capitare a chiunque! Ha sentito le nostre critiche! Sì, buona fortuna e se ne è andato! Ok, ciao, grazie di tutto! Grazie mille! Perché ci hai portato qua, non è una bella cosa, Steph! Calma, calma! Allora... Non mi piacciono le altezze, Steph, non mi piacciono per niente! Allora, creiamoci una piccola piattaforma! Ok, vai! Guarda, facciamo così... Così iniziamo a stare un po' più larghi, va bene? Ok, guarda! Ok! Adesso viviamo in nove blocchi, eh? Bello! Abbiamo migliorato la situazione! Ma qui siamo a lusso, Steph, è una piscina con l'acqua, altro che cobblestone generator! Vuoi che metto l'acqua? La sprechiamo! Sì, tanto la sprecherai lo stesso, non ti preoccupare! Non è vero! Vai, vai! Allora, quindi il nostro obiettivo è partire da un cobblestone generator! Per farlo dobbiamo mettere dei blocchi sotto e sopra, perché altrimenti buca... Capisci? Sì, sì, lo so, lo so come si fa, quindi non c'è bisogno che me lo spieghi! Sono un po' preoccupato! Eh, anche io, perché... Eh, non lo so! Ho paura di sbagliare, in questo momento ho l'ansia, Fede! Allora, secondo me devi costruire un'altra fine di terra qui... Ok! ...e poi costruiamo verso l'alto, così non devi andare in basso, capito? Tipo così? Non me la sento di fare ancora il compression generator, però... ...ho un piano! Ok, dimmi! Ok, allora, passami l'alberello e l'osso! Ok, tieni! Ok! E tieni! Sto facendo... È una buona idea, eh! Ok! Non lo so! Noi mettiamo un alberello qua! Ok! Ok! Dopodiché creo del bon meal! Ok! Cerchiamo... Oh, yes! Eccolo qua! Eccolo qua! Ok! E iniziamo a farmare un po' di legno! Allora, Fede è una cosa... Quindi per fare una piattaforma molto più grande... Sì, però, prima di rompere l'ultimo blocco di legno... Ok! ...in modo che iniziano a scomparire le foglie, creiamo una mini piattaforma! Perfetto! Ok! Perfetto! Perché così cerchiamo di non perdere gli eventuali savings! Allora, quale sarà l'ultimo? Questo? Sì, Fede, quello è l'ultimo! Sicuro? Eh, boh! Credo! Aspetta! Io inizio a creare una mini piattaforma per eventualmente... No, ce n'è un altro! Ce n'è un altro! Ok! Ok! Ok, vai, 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 vai! Ho rotto un po' di foglie, ho visto! Ok, facciamo così! Ok, vabbè, rompo anche il legno ormai! Sì, sì, ovvio, ovvio, ovvio! Rompiamo tutto! Prendiamo anche il blocco ed eccoci qua! Uh-huh! 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 Non è caduto un sapling! No, davvero, Stef! Sì! Però ne ho preso un altro! Ma come? Quindi, siamo tornati a due, guarda, tre, Fede! Ok, ok, preso, ho preso uno! Ne hai uno anche tu? Sì, sì, sì! E io ne ho tre! Vai, è fatta, è fatta, è fatta, Fede! Forse ne è caduto uno, non sono sicura, però è probabile! Ok, vabbè, dai! L'importante era averne almeno... Ne è caduto un altro! Per ora pensiamo a farci una fonte d'acqua infinita, Fede, va! Che mi sembra la cosa più sensata! Non penso, basti! Basta! Sì, sì, è fatta, è fatta, è fatta! Ok, perfetto, perfetto! Almeno abbiamo una fonte d'acqua infinita! Dopodiché pensiamo a cobblestone generator, però facciamo un passo alla volta! Andiamo sul sicuro, Fede! Lo so che ti mette ansia, Stef, ma prima pure lo dobbiamo fare! Non è che ci possiamo stare qua tutto il gioco! Se avessi tantissimi blocchi, starei un po' più tranquillo! Quando invece ne pochi e devi fare tutto stretto, stretto, mi viene un po' di ansia, Fede! Quindi ho un po' di paura, però mi sa che adesso ci provo, eh! Fede, cosa stavi facendo? Provando a ballare con l'albero! Non funziona, quella è solo nella Skyblock, Fede! Non so, ma magari cresce, Stef! Magari cresce lo stesso, perché gli piacciono i miei balli! Ti metto la lava in faccia! Smetti di ballare, ok? Se non funziona, non è colpa mia, eh! Ho paura, Stef! Allora... Nel frattempo è cresciuto l'albero! Vado? Vai! Ecco qua! Ecco qua! Sempre che lo dobbiamo sbagliare, Stef! Sempre! Ma non è sbagliato, Fede! Sì, che è sbagliato! È successo esattamente quello che volevamo, eh! Sì, certo, Stef! Completamente tutto programmato! È passato Gonx e ci ha dato un altro secchiello, perché ha detto che era troppo triste! Che gli hai fatto pena, Stef! Gli hai fatto pena! Non è colpa mia, lo sai quanto è difficile! Se lo lasci fare a me, ogni volta è perché anche te viene sempre l'ansia! Ma viene a chiunque l'ansia, dai! Viene a chiunque! Davvero qualunque! Puoi giocare 10 anni a Minecraft che quando devi fare il cobblestone generator c'è sempre quel tocco d'ansia! Allora, teoricamente così funziona, perché è il sistema 5 di cui sono un po' più sicuro! Ok! Ok! Ok, è stato molto lento e mi è sembrato molto tranquillo! Dammi una mano a distruggere questo blocco! Sì, infatti lo sto facendo perché sennò qua facciamo notte, Stef! Questo è il momento della verità! Ok! Ti prego! Dai! Lo sto sperando! Ok! Sì, andato! Ok, ok, ok! Allora, non dobbiamo più provare a risparmiare blocchi! Sappiamo fare solo il sistema 5 e continuiamo a fare il sistema 5! Esatto! Non ne proviamo mai più! Va bene quello! Allora, nel mentre è cresciuto un altro albero che è un'ottima notizia! Però io sto iniziando a morire di fame, Ferre, te lo dico perché d'altronde siamo qui già da un bel po', ha già fatto una notte! Certo, certo! E quindi inizio ad avere parecchia fame! Mi prendo tutta questa legna, ripianto subito un albero, se riusciamo, cerchiamo di prenderci un altro alberello! Sto provando! Ok, vai, Ferre! Eccolo, eccolo, eccolo! Uno ho preso? Sì! Ok, l'importante secondo me è pareggiare... Oh no, addirittura due perché poi io prima non l'ho piantato quello che ho trovato, quindi ne ho ancora due! Ok, perfetto, perfetto, perfetto! Faccio... Ho allargato anche la piattaforma così teoricamente non dovrebbero cascare! Andiamo subito su sicura ad avere tantissimi alberelli, io in questo momento ne ho tre, tu ne hai due? Sì, sempre due, non ho trovato alberi! Abbiamo cinque alberi, credo che non siamo più a rischio! Dobbiamo sostituire questo... Ok... Poi dobbiamo sostituire questo... Secondo me stiamo rischiando... Oh mamma mia, super calutinato! Lo so che stiamo rischiando il nostro cobblestone generator, però questa terra è troppo importante, Ferre, non ci possiamo fare molto! Io direi che ci possiamo iniziare a fare la nostra crafting table... Perfetto! Ok... E forse riusciamo a fare anche il primo utensile! Non vorrei esagerare qua, ma ci dovrebbe uscire! Inizia a servire, inizia a servire! Ok, tieni! Grazie! Sai cosa devi fare, vero? Sei super gentile, Steph! Vai, diverti! Io ho sempre paura di bruciare i blocchi, però... Lo so! Ecco, no, l'ho preso! Ok, bravissima! Girati! Girati! Che c'è? Dove? Oh mamma mia! Non capisco! Allora, io ho preso 8 di cobblestone, tu quanti ne hai preso? Io ne ho 19! 19... Beh, siamo... Ferre, mi hai rotto un alberello! Ah, scusa! Troppa forza nelle braccia! Sei un disastro! Sei davvero un disastro! Io volevo fare un pochettino un recap degli obiettivi, perché mi sono scritto in un foglietto, che abbiamo già fatto! Un albero cresciuto? Fatto! Completo un generator? Fatto! 60 quadri pietra? Ancora no! Quasi, però! La farm? Ancora no! Due chest? No, ma ci siamo quasi, perché gli alberelli stanno crescendo abbastanza in fretta! E la casetta? Non ci siamo ancora per niente! Comunque stiamo usando, lo volevo dire al volo! La shaders? Che ha fatto Tearless? Non è una shaders, Steph! È una razor spark, le confondo sempre! Perché tu non stai a dire niente! E praticamente rende il cielo bellissimo! Realistico! Cambia pochissimo i blocchi, che è una cosa che io apprezzo tantissimo, e quindi ci stava perfetto per fare questa cosa, dove eravamo... Sì, io stavo proprio cercando un cielo realistico, però di solito modificano troppo i blocchi, che non mi piace, la sua era perfetta, quindi ho detto vabbè, la prendo e la utilizzo! Sì, quindi grazie mille Tearless! Mettiamo il link in descrizione per scaricarla! Ok, Fere, quanto sei di pietra? 33! 33! Siamo a metà di una stack! Metà, metà, metà! Vai Fere, che ce la facciamo, vai Fere! No, no, no! Fere! Sono incastrata a... Torna in vita! Dimmi che è tutto ok! Lo spero! Torna in vita! Risalve, Fere, tira! Tutto a posto, Steph, tutto a posto! Sì, ma stai attenta con quella lava! Se tu che hai costruito sopra il posto dove io sarei dovuta tornare, è colpa tua, Steph! Però meno male che avevo il keeping inventory, perché altrimenti mi bruciavi tutto il lavoro fatto! Ascolta, mi sono dovuta esporre, cioè non è colpa mia! Per un blocco! Ebbè, perché vengono bruciati nella lava, quindi certo che mi devo sporgere un sacco per prenderli, è normale, è da cadere un attimo, Steph! Io volevo dire una cosa, Fere, mi sto un po' ammogliando, perché sto aspettando che ricrescano questi alberelli, ma questi alberelli non ricrescono! E stai un po' di pietra che tu, disgraziato! Ma ci sei tu a fare la pietra, perché dovrei sporcarmi le mani? Fai un altro cobblestone generator, allora! Ne faccio un altro? Sì, vai! Tanto non sono così brava a farli! Esatto, ti diverti così tanto a farli! Ho un talento naturale! Vai, vai! Ho fatto, Steph! Davvero? Allora, facciamo un bel recap! Abbiamo fatto l'albero, abbiamo fatto il cobblestone generator, abbiamo fatto i 64 di pietra, ok? Ci manca una cesta da craftare, se crescesse qualche albero sarebbe una cosa che fa comodo, sai com'è? E poi dobbiamo farci la nostra bellissima casetta, Fere, ok? Sì, 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 sì! Riprendi quei 64 e costruisci, Fere! Facci vedere la casetta che creerai nei cieli, Fere! Qua i blocchi sono molto limitati, non mi posso espandere troppo, Steph! Io nel mentre mi sa che continuo a fare un po' di cobblestone, va bene? Vai, sì, 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 continua, continua! Fere? Dimmi! Tieni 35 di cobblestone, dato che per la casetta non ti bastavano ancora! E guarda, sono cresciuti due alberi, quindi finalmente Steph può tornare al lavoro! Vai, 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 vai! Ok, uno! Non è che mi ne diano tanti ogni volta, però mi devo accontentare! Allora, andiamo a prendere anche questo e poi cerco di acchiappare più sapling che posso, giusto per non sprecarli, però prima mi voglio muovere a prendere tutta la legna che posso! Oh, ne è cresciuto anche un altro nel mentre! 60 di legna, mi creo la mia bellissima chest! Ok, guardate un pochettino! Altro obiettivo andato! Perché abbiamo anche due chest! Fere, vorresti un po' di legna per fare la casa più carina? Eh, sì, ci starebbe, anche se sto già andando bene! No, ma tieni 26 di legna, usali come meglio preferisci! Nel mentre è cresciuto un altro alberello, e devo dire che con i sapling se stondano un po' a suiga, quindi adesso cerco fin da subito... Oh, ok, meno male, guarda, appena l'ho detto me ne sono capitati due! Perfetto! Meno male! Fere, ho notato che un blocco è diventato di erbetta, però c'erano due erbacce, le ho provate a distruggere e niente semino! Quindi per la farm e te lo dico, Fere, ci arrendiamo! Dai, sì, sì, sì! Secondo me ci prendiamo un punto, perché stiamo facendo una casetta carina! Più o meno! Non è bellissima, ma è difficile costruire così in alto, non abbiamo troppi materiali, quindi mi sono dovuta un pochettino... Perché davvero non è male! Però è un rifugio! Abbiamo fatto crescere un albero, ma gli abbiamo fatto crescere tanti più di uno! Abbiamo fatto il complesso un generator, abbiamo creato due ceste, abbiamo farmato 64 di pietra, abbiamo creato una casetta anche abbastanza carina... L'unica cosa che ci è mancata è la farm, che è davvero troppo lunga, aspettare ogni volta l'erbacce, soprattutto le poche volte che è cresciuta, c'è una tasfiga! Esatto, quindi 5 su 6, comunque ce la stiamo cavata! Anche secondo me... Per essere in mezzo al cielo, con solo un blocco, secondo me ce la stiamo cavata! Per ragazzi, lasciateci un bel like! E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao, e alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao!